C'è nessuno? Lo so, tu sei Cindy. Arrivo subito. Si asce ne qua? Bingo. Ma puoi chiamarmi l'oracolo? A non preoccuparti del vaso. Quale vaso? Oh, scusa, non sapevo. Oh, scusa. Con il vaso. Prego, siediti. È stata la poltrona. Sì, la poltrona. Lo so perché sei venuta. Hai un grande mistero davanti a te. Ma non devi sfuggire alla sfida. Solo tu potrai essere con lei che riuscirà. Orfeus. Che c'è, amore? Tesoro. Sto guardando la partita. Ti dispiacerebbe. I Lakers vinceranno con 12 punti. Allora, puoi dirmi qualcosa? Della cassetta? Sì, l'ho guardata e poi... Ha squillato il telefono. Esatto, e poi una voce ha detto... Che saresti morta entro sette giorni. Questa storia sta diventando... Estremamente fastidiosa. Sì. Pensa essere sposato con lei. Mi rompe le palle su donne che ancora non me l'hanno data. Tu hai fatto una copia della cassetta, vediamola. Sì, ok. Shaniqua, puoi dirmi se... La cassetta è collegata ai cerchi di grano e agli alieni? Sì. Ma sta a te scoprire come, per conto tuo. Guarda, è un... Sigaro, io stavo per dire faro. Trova quel faro, è il tuo destino. Aspetta, quella cos'è? Oh mio Dio. Eccoci. Amore. Su, amore. Lo sapevo che finiva così. Oh, andiamo. Maledetta. Ma ti dici, cervello? Ti insegno io una cosa. Leva quel culone dalla TV. Amore, no, no. Lasciala andare, lasciala andare, no, dai. Così ci mettiamo un'altra denuncia. Mi hai buttato a dosso, l'ammazzo questa stronza. Così. Hai vinto, hai vinto, hai vinto. Hai vinto. In alto, in alto, e adesso giù. Va bene? Va bene. Amore, no. L'ammazzo, sei matta, sei matta. Amore, no. Che ti spazzoli adesso, che ti spazzoli adesso, che ti spazzoli. Hai scelto il televisore sbagliato. Hai scelto il televisore sbagliato, però sì.